77 anni morta soffocata in casa a Senigallia, arrestato il marito che le avrebbe coperto la bocca per non sentire i lamenti. Tragedia alla stazione di Marotta, 41 anni investito e ucciso da un treno in transito. Bolletta rincarata del 500%, l'emporio A.E. di Poderino non regge e abbassa la serranda, un appello alla città per salvare almeno l'emporio di Rochelle. L'inflazione è stangata da 2.700 euro a famiglia, con i rincari di benzina, luce e gas, i costi sono destinati a salire ancora. I margini sono sempre più bassi, mi domando come faremo noi imprese, per quanto a caro benzina dobbiamo pure riscaldare dove lavorano i colleghi e quindi è un momento estremamente difficile. Alluvione oltre 3.000 euro dall'onorevole Antonio Baldelli per la raccolta fondi di ConfCommercio Marche Nord. Ai passeggi, al via i lavori per l'installazione delle panchine intelligenti e delle telecamere di videosorveglianza. A Fano 2 invece è messo a dimora un ulivo nella vecchia fontana, non più funzionante e in stato di degrado. Promozioni, strategie e testimonianze di successo. Sabato tornano a Fano gli stati generali del turismo, martedì prossimo si presenta alla città il progetto delle nuove terme di Carignano. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. È stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale Marino Giuliani, 79 anni, marito di Valeria Baldini, la 77enne morta in casa in frazione Filetto di Senigaglia in provincia di Ancona. L'anziana sarebbe deceduta per soffocamento ma sarà l'autopsia ad accertare la causa del decesso. L'uomo avrebbe riferito di averle messo una mano davanti alla bocca per non sentirla lamentarsi. L'arresto è scattato a seguito delle dichiarazioni rese dal 79enne ai carabinieri al PM di Ancona. L'ipotesi d'accusa dunque che Giuliani, il quale accudiva giornalmente la moglie gravemente malata, le abbia compresso la bocca o il collo per impedirle di urlare e pur senza volerlo l'abbia comunque uccisa. Per ora la contestazione dei confronti del marito è appunto di omicidio preterintenzionale, cioè una condotta che voleva ledere ma senza intenzione di uccidere. Secondo una prima ricostruzione la tragedia è accaduta questa mattina verso le 8 nella cucina della loro villetta situata in strada della foresta. In casa, ma al piano di sopra, c'era anche il figlio, cinquantene della coppia, che risulta estraneo ai fatti. Giuliani attenderà ai domiciliari l'udienza di convalida. A Marotta invece Francesco Pirella, 41enne del posto, è stato travolto e ucciso da un treno merci lungo il binario 1. È successo oggi pomeriggio poco prima delle 16.30, poche centinaia di metri dalla stazione. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, l'autorità giudiziaria e la polfer di Ancona che indaga sul caso. L'ipotesi seguita dagli investigatori è quella del suicidio. Inevitabili, disagio a circolazione dei treni, che è stata immediatamente bloccata. Gli intersiti regionali e quelli ad alta velocità hanno subito forti ritardi. Il presidente della cooperativa sociale Contatto, Michele Altomeni, ha annunciato la chiusura dell'emporio AE al poderino di Fano dopo aver ricevuto una bolletta, pensate, rincarata del 500%. È a rischio anche la sede di Rosciano. Il 29 ottobre abbasserete la strada cinesca di questo negozio. Cosa è successo? È successo che sono arrivate le bollette con i rincari, che ci aspettavamo già con terrore. Nel nostro caso si sono aggiunte ad una serie di altre difficoltà che comunque stavamo vivendo con i nostri negozi, perché c'è una crisi nazionale rispetto ai negozi specializzati in prodotti biologici, perché i consumi si stanno spostando verso la grande distribuzione di hard discount, quindi i negozi come i nostri sono già abbastanza in sofferenza. È arrivata una bolletta dove siamo passati da 1.400 euro a 6.200 euro al mese, per noi è assolutamente insostenibile. Ricordiamo che il lavoro svolge la cooperativa, visto che tra i soci ci sono persone con diverse fragilità. Sì, la cooperativa è una cooperativa che nasce e vive per dare lavoro a persone con fragilità di vario tipo, fragilità sociale, disabilità, persone che escono da percorsi del caro, c'è persone che normalmente non trovano lavoro nei comuni canali e quindi gli empori, i nostri due empori, sono una delle diverse attività che la nostra cooperativa ha, proprio con questa finalità specifica. Questo è il vostro secondo punto vendita, quello di Rociano invece che fine farà? Quello di Rociano proviamo a salvarlo, diciamo che stiamo in qualche modo sacrificando tristemente uno dei nostri figli sperando di salvare l'altro, infatti stiamo facendo proprio una campagna che è quella di invitare i cittadini e i clienti anche affezionati del negozio di Poderino di continuare a sceglierci per la loro spesa e di farlo nell'altro negozio che invece cercheremo di difendere fino alla fine. Abbiamo scelto purtroppo di chiudere questo punto vendita perché è a sé stante, quindi con un suo affitto, un suo edificio, una sua autonomia rispetto all'altro che invece è inserito all'interno di tutto il resto della sede della cooperativa, quindi in quel caso chiudere il negozio non ci avrebbe fatto risparmiare i soldi dell'affitto, quindi a malincuore ma abbiamo dovuto fare questa scelta. Invece per i dipendenti qual è la situazione? La situazione purtroppo per i dipendenti è abbastanza grave, proprio in questi giorni avremo incontri con i consulenti del lavoro per trovare la soluzione meno dolorosa per tutti, ma sicuramente dovremo fare ricorso alla cassa integrazione e forse se la situazione non si risolve in qualche modo non riusciamo a riassorbirli in altre attività della cooperativa rischiamo di perdere anche alcuni posti di lavoro. Qual è il vostro appello? Il nostro appello è di aiutarci a superare questo momento, abbiamo fatto un appello proprio dicendo abbiamo passato la nostra vita dal 97 in avanti diciamo cercando di aiutare le persone, adesso purtroppo siamo noi a dover chiedere aiuto, ovviamente chiedere aiuto anche per le persone che aiutiamo. Abbiamo indicato quattro gesti semplici che i cittadini possono fare, uno è quello appunto di scegliere il negozio di Rosciano per la loro spesa, uno è quello di aiutarci a farlo conoscere, noi abbiamo dei buoni spesa che possono essere acquistati e regalati proprio come incentivo, come invito a frequentare il negozio, l'altro è di usare appunto l'occasione del Natale per i cesti, per i regali, per regalare buoni regalo sempre con questa finalità appunto di sostenere e di far conoscere il punto vendita e la quarta è anche quella della donazione pura e semplice. Abbiamo dedicato una pagina del nostro sito che è www.cooperativacontatto.it slash salviamolastoria dove ci sono un po' tutte queste indicazioni di come è possibile aiutarci. Continuiamo a parlare dei rincari generalizzati che pesano sempre più sui bilanci familiari, senza nuovi interventi da parte del governo anche i prezzi dei carburanti potrebbero aumentare ulteriormente dal mese di novembre. L'inflazione all'8,9% nel mese di settembre determina una stangata per gli italiani, considerata la totalità dei consumi di una famiglia tipo pari a più 2.700 euro annui, conto che sale ad oltre 3.000 euro per una famiglia con due figli. Lo afferma il Codacons commentando i dati diffusi dall'Istat. Il professor Francesco Tanasi, docente dell'Università San Raffaele di Roma e segretario nazionale dell'associazione, spiega che siamo di fronte a uno tsunami economico senza precedenti e che la crescita dei prezzi al dettaglio è destinata ad aggravarsi nelle prossime settimane. I rialzi di benzina e gasolio e cui listini alla pompa sono tornati a salire negli ultimi giorni, assieme ai maxi aumenti delle bollette elettriche e agli incrementi del gas alle porte avranno effetti diretti sui prezzi al dettaglio, portando a nuovi rincari a danno dei consumatori. I prezzi comunque continueranno a salire, nel senso che per quanto lo Stato, il governo abbia anche pensato bene di fare quel decreto legge per ridurre le accise di 25 centesimi più IVA, quello è un decreto che è stato molto utile per poter non avere il prezzo oltre 2 euro, però è un decreto che costa diversi miliardi al mese e che se adesso non verrà rinnovato ci troveremo dal 1 novembre all'aumento di 30 centesimi, virgola 5 su tutti i carburanti. Da noi in Italia si è sempre visto che se aumenta da 1,20 euro andiamo a 1,40 euro a 1,60 euro, per quanto torna indietro al massimo torna a 1,40 euro, non torna mai a 1,20 euro, perché comunque c'è sotto anche una questione di speculazione. Le accise sono anche un contributo previdenziale? Sì, certo, tutti ce le abbiamo con queste accise, ma dobbiamo pensare che con le accise si paga la sanità, si paga la scuola, si pagano le pensioni e nel bilancio dello Stato le accise hanno un grosso peso e quello anche se ancora ci sono le accise della guerra di Abissinia, del tempo del fascismo o dell'alluvione di Firenze negli anni 60, certo non vanno più per quelle motivazioni lì, ma comunque vengono usate per far quadrare il bilancio dello Stato e sarebbe bene andare a vedere chi è che ha fatto questi megaprofitti, perché una società come Leni, che è arrivata a fare 7 miliardi di mezzi di utile netto nei primi sei mesi con il 700% di utile netto, lì dovrebbero un pochino metterci la mano sulla coscienza e ridurre i prezzi loro, fare un utile inferiore per aiutare anche l'economia nazionale che è in ginocchio. Devassanti anche i dati sugli alimentari, i cui listini salgono dell'11,7%, tradotte in cifre, equivale ad una maggiore spesa solo per il cibo, pari a più 652 euro all'anno per la famiglia tipo e più 876 per un nucleo con due figli. Il Codacon si ha chiesto al governo di tagliare l'IVA sui beni di prima necessità e di disporre un condono per i 5 milioni di italiani che a causa della crisi in atto non sono riusciti a pagare le bollette e rischiano di vedersi interrompere le forniture. Se non sbaglio alla fine del mese dovrebbero rientrare, cioè rimettere le accise il famoso governo, quelle che aveva tolto, oltre che la benzina purtroppo sta rincarando tutti i giorni. Il mio modesto avviso praticamente non è ben spiegato il perché di tutti questi aumenti, se dà la colpa alla guerra, se dà la colpa alla crisi, però il fatto che aumenta tutta questa benzina certamente la crisi non è che aiuta poi tanto. Possiamo fare un appello magari alle istituzioni, al governo? Io spero che il governo, qualunque sia, che ancora non è ben delineato, faccia qualcosa, si metta la manina nella coscienza, sapendo benissimo che il settore petrolifero va a incidere molto su tanti altri rincari, perché nel senso che la benzina che costa molto, praticamente in conseguenza gli autotrasportatori devono viaggiare e quindi in conseguenza devono aumentare tutto quello che poi utilizziamo tutti i giorni. Aumenteranno i prezzi, lei come combatterà questo nuovo rialzo? Non saprei, guardi, non so come confrontare perché ho altri mezzi, non ho soltanto la macchina, ho degli autocarri, non saprei come affrontare, dovrò lasciare gli altri mezzi a casa, andrò via con uno e basta, perché così non si può andare avanti. Stringeremo la cinghia, si combatte, purtroppo per lavorare bisogna muoversi, i margini sono sempre più bassi, mi domando come faremo noi imprese, per coltaccaro benzina dobbiamo pure riscaldare dove lavorano i colleghi e quindi è un momento estremamente difficile, bisogna avere una seria politica di desfiscalizzazione del carburante, sul quale paghiamo ancora le accise messe durante il fascismo, durante i terremoti, è una barzelletta. Vedo che lei sta facendo benzina al self-service, è un modo per risparmiare? Sì, è un modo per risparmiare, secondo me è anche uno stile di vita, bisognerebbe tutti fare benzina al self-service perché è veramente una funzione immediata, semplice e comoda, non capisco perché bisogna invece utilizzare il gestore. È stato firmato oggi l'atto di cessione per 99 anni dell'area sportiva di Monbaroccio da parte del Comune in favore di Azur Marche per la realizzazione del nuovo ospedale di comunità previsto con i fondi del PNRR. L'intervento di 3,6 milioni di euro si svilupperà su 14 mila metri quadrati e si inserisce in un contesto strategico di sanità territoriale dove l'Europa e la Regione Marche stanno lavorando con l'obiettivo di rafforzare la sanità di prossimità in termini sia di servizi offerti sia nell'ottica di miglioramento della qualità e delle tempistiche dei servizi stessi. Per il sindaco di Monbaroccio è una giornata storica e da ricordare per i prossimi decenni. Riconoscere Monbaroccio come baricentro fra la seconda e la terza città delle Marche, ha detto il sindaco, nonché snodo di due vallate riferimento per parte dell'entroterra, non può che renderci orgogliosi per questa scelta voluta con determinazione dalla Regione in un progetto condiviso con l'amministrazione comunale. La protezione civile delle Marche ha emesso un'allerta meteo per vento forte in gran parte della Regione. L'avviso, valido per tutta la giornata di domani, sabato 22 ottobre, indica venti da sud-ovest con raffiche di burrasca forte ma con locali rinforzi fino a tempesta nell'appennino pesarese e in quello fabrianese. Torniamo a parlare dell'alluvione del 15 settembre scorso perché l'onorevole Antonio Baldelli ha donato più di 3.000 euro a Confcommercio Marche Nord per aiutare le popolazioni duramente colpite. È di 3.085 euro la cifra raccolta dall'onorevole Antonio Baldelli durante la campagna elettorale per le politiche in favore delle comunità colpite dall'alluvione. Questa somma andrà a contribuire alla raccolta fondi nazionale promossa da Confcommercio Marche Nord per aiutare i comuni gravemente danneggiati dal nubifragio del 15 settembre scorso che ha devastato abitazioni, imprese, attività commerciali e infrastrutture. Questa mattina l'onorevole di Fratelli d'Italia ha consegnato l'assegno al direttore generale di Confcommercio Amerigo Barotti e al presidente Angelo Serra presente alla conferenza l'assessore regionale Francesco Baldelli. Dopo gli eventi tragici del 15 settembre insieme agli amici con cui abbiamo organizzato la campagna elettorale abbiamo deciso di trasformare ogni evento piccolo e grande di campagna elettorale in un evento di raccolta fondi. Questo segno di sensibilità sarà riportato anche all'interno del Parlamento e cercheremo di fare ciò che non ha fatto purtroppo l'attuale governo che si è limitato a prevedere qualche spicciolo, davvero qualche spicciolo di fronte ad una situazione di una gravità estrema per alcuni comuni del territorio penso a Cantiano, penso a tutti i comuni del Lanconetano, penso alla mia città di origine chi ha visitato quei territori conosce bene la situazione. È un esempio concreto di vicinanza e sostegno, ha commentato Varotti che ha ringraziato Baldelli e tutti coloro che hanno contribuito a questa lodevole iniziativa. Come Confcommercio, ha proseguito il direttore, ci siamo subito attivati con la raccolta fondi perché se non ripartono le imprese non ripartono economia, turismo e la vita di queste comunità. Abbiamo preferito fare questa scelta, cioè di mobilitarci noi con una raccolta di fondi invece che destinare fondi alla raccolta fatta dall'amministrazione comunale proprio perché vogliamo essere veramente vicini alle aziende, vicini alle imprese, vicini ai negozi ai quali non solo daremo quello che emergerà dalla raccolta di fondi ma stiamo anche seguendo le pratiche gratuitamente, le pratiche per ottenere i contributi da parte della Regione Marche e successivamente anche da parte del Governo nazionale. Al momento dobbiamo ancora fare i conteggi precisi ma ci avviciniamo ai 20.000 euro che mi pare comunque una somma interessante perché abbiamo visto le esigenze di tante imprese parliamo delle imprese del commercio, del turismo, c'è la necessità di acquistare magari il banco frigo c'è la necessità di rifare l'arredamento del negozio, però siamo convinti che questa somma aumenterà notevolmente. È stato messo a dimora al centro della vecchia fontana di Fanu II Lulivo che è stato posizionato in piazza Capuana nell'ambito dei lavori di riqualificazione richiesti per anni dai residenti ancora in corso. L'ulivo verrà valorizzato da una illuminazione con tre fari e un sistema di irrigazione autonomo. Oltre alla bonifica della fontana che da tempo non era più funzionante e che versava in uno stato di degrado l'intervento prevede nuovi arredi con sedute moderne e poi panchine inoltre la piantumazione di altri arbussi e la sistemazione del muretto vicino ai giochi e quest'ultimo fa parte del secondo stralcio dei lavori che partirà a giorni. E a proposito di sedute, ai passeggi di Fano sono partiti i lavori per l'installazione di panchine intelligenti e non solo. Il servizio è stato, anzi l'intervista è stata curata da Filippo Pucci. Mesi fa avevamo annunciato che all'interno di questo spazio sarebbe stato installato un progetto tecnologico. Ecco, ora alle mie spalle i lavori sono già partiti e Enel X metterà a disposizione tre panchine super accessoriate che appunto verranno installate in questo spazio, tutte e tre previste di una presa USB e una presa civile. Saranno dotate anche di due rastrelliere con due prese elettriche per bici. Oltre questo, una avrà proprio un defibrillatore e la connessione wifi. Ecco che questo luogo arriva ad essere in connessione con quella che è la tecnologia. Parliamo di un luogo straordinario che inevitabilmente questo polo lo vuole videosorvegliato, tanto che Enel ha messo a disposizione anche due telecamere che sono connesse poi con tutto quello che è la rete del corpo della polizia locale che noi abbiamo naturalmente e presidia tutte le telecamere installate nella città. È molto importante che tutti noi lo salvaguardiamo. Non solo questo sarà uno spazio intelligente, ma un domani diventerà anche il Giardino delle Meraviglie proprio perché allacciato a questo c'è un progetto del Consiglio dei Bambini che hanno lavorato per riqualificarlo al meglio. La realizzazione, anzi il termine ai lavori, diciamo, sarà la prossima entro fine mese, quindi la prossima settimana ci sarà l'installazione delle panchine, l'allaccio delle telecamere. Ecco, diciamo, dobbiamo attendere pochi giorni per poi sederci connesse a tutti gli effetti. Oggi la Giunta Comunale di Fano ha approvato un intervento per la sostituzione del campo da baseball che permetterà di ospitare manifestazioni a carattere nazionale per i campionati federali di serie, ad oggi chiamata serie B, per questa disciplina. Inoltre, come annunciato dall'assessore Brunori, verrà eseguito anche un intervento di messa in sicurezza di tutte le parti ammalorate. Invece, l'assessore della Comune di Pesaro, Riccardo Pozzi, fa sapere che proseguono in cantiere i lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale che collegherà in pochi minuti i quartieri a nord-ovest della città con il centro storico, la stazione e il parco 25 aprile. Una volta conclusa la fase di assemblaggio e di saldatura, il ponte verrà portato in prossimità del parco per preparare le operazioni di Varo. Prosegue così, ha commentato Pozzi, la riqualificazione dell'area di Via dell'Acquedotto con una infrastruttura strategica per la mobilità e il collegamento di una parte significativa della nostra città. E dopo un anno di chiusura, riapre il tratto di Via San Decenzio che affianca il Tribunale di Pesaro. Infatti, sono terminati i lavori del Ministero su una delle facciate dell'edificio che presenta problemi di distacco delle lastre di rivestimento. Domani, dalle 9 alle ore 12, la parte di strada, compresa tra Via Manzoni e Via Flacco, sarà chiusa al traffico per consentire al centro operativo del Comune la rimozione dei New Jersey che, come amministrazione, ha spiegato l'assessore Belloni, abbiamo sistemato per rafforzare le protezioni a tutela di ciclisti e pedoni. Terminate le operazioni, Via San Decenzio sarà restituita alla circolazione. Ed ora la segnalazione di un nostro reporter di strada che ci ha inviato questa fotografia che ritrae un cartello situato in Via della Giustizia a Fanno, all'angolo con Viale Kennedy. Questo cartello di divieto è sbiadito, ci ha scritto il telespettatore, e non viene notato dagli automobilisti. Oggi, alle 11.20, il conducente di un camper è entrato nella Via Contromano. Stessa situazione ieri per i conducenti di due autovetture. Promozione turistica, strategie e testimonianze di successo. Di questo e non solo si parlerà domani a Fanno durante gli stati generali del turismo. C'è grande attesa anche per la presentazione del progetto delle nuove terme di Carignano che verrà illustrato alla città martedì prossimo. Sarà un momento di confronto e di dialogo con la città, ascoltando le esperienze dei professionisti del settore. Sabato 22 ottobre, al Teatro della Fortuna di Fanno, tornano per il terzo anno gli stati generali del turismo. L'evento, aperto al pubblico, è fortemente voluto dall'assessore Etio e Lucarelli, che punta sul lavoro in sinergia per accogliere le aspettative di un mercato sempre più esigente. La mattinata prenderà il via alle 9.15 con i saluti istituzionali. La parola d'ordine sarà crescere insieme, lavorare insieme per la crescita della nostra città, quindi un momento di plenaria sabato 22, dove cercheremo di capire il percorso fatto fino ad oggi, ma anche quello che dobbiamo fare nel 2023, che cosa ci aspetta nel 2023, soprattutto in virtù del caro Bollette, di quello che sta succedendo a livello nazionale internazionale. Capiremo il percorso e lo capiremo anche insieme a delle persone che hanno fatto progetti di successo in Italia, come ad esempio l'assessore al turismo del Comune di Parma, Cristiano Casa, che ha fondato questo progetto Parma Città della Gastronomia, oppure Alex Bianchi, che ha fondato il progetto del consorzio Family di Riccione per attirare il turismo family. Ecco, stiamo lavorando su dei progetti che valorizzano l'identità della nostra città, quindi sul turismo familiare, sul turismo gastronomico, sul turismo marinare, dobbiamo lavorare in futuro sul turismo culturale, sulla possibilità di far vivere la nostra città all'aria aperta. Ecco, per fare tutto questo dobbiamo lavorare insieme. L'amministrazione comunale, ha proseguito Lucarelli, deve investire nella promozione attraverso strategie vincenti. Fondamentali saranno anche gli investimenti degli imprenditori per poter qualificare le offerte, si pensi ai bike hotel o ai family hotel. Un momento molto importante dove ascolteremo casi di successo, ma quei casi di successo dovremo farli ricadere anche nella crescita della nostra città. Non finiranno qui gli stati generali del turismo, ma da lunedì 24 fino a lunedì 7 novembre avremo una serie di laboratori, l'abbiamo chiamato Visit Fano Lab, per lavorare appunto, ecco, su varie caratteristiche della nostra città. Lunedì sarà la volta di Fano Gastronomica, mentre martedì 25 ottobre alle ore 17 al Cinema Masetti, il gruppo Romani presenterà il progetto e il piano di rilancio delle terme di Carignano. Il progetto che ci auspichiamo possa diventare realtà è per noi molto importante che lo diventi perché qualifica molto la proposta della nostra città, come la ragioneremo giovedì 27 con gli eventi e così via. Parleremo di turismo culturale, parleremo di outdoor, parleremo di tanti altri progetti che dobbiamo attivare insieme per far crescere la nostra città. Ecco il concetto che è la chiave di volta di questi stati generali e credo che sia anche la chiave di crescita della nostra città. Ognuno deve fare il suo lavoro, lo dobbiamo fare in primis noi come amministrazione, ma è importante che ognuno faccia il suo per far crescere la città. Domenica prende il via la 57esima fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna. Sarà il sindaco Luca Lisi con i sindaci dei comuni del territorio colpiti dalla recente alluvione a tagliare il nastro inaugurale dopo la cerimonia al teatro Antonio Conti che avrà inizio alle 10.30. Durante la cerimonia verrà insegnita della ruscella d'oro pergola città del tartufo. A ritirare il premio sarà il sindaco Simona Guidarelli. Invece il cuore della fiera a Piazza Mattei aprirà domenica alle ore 10 con il profumo inebriante del tartufo bianco in bella mostra negli stand dei commercianti. Si aprirà inoltre il mercato del gusto con le migliori produzioni legate al tartufo, all'artigianato e alle tipicità del territorio. Le degustazioni poi avverranno sia nei ristoranti che nel nuovo spazio Risto Tartufo dove gli chef locali saranno impegnati nella preparazione di ricette inedite e quelle della tradizione per un totale di 300 posti a disposizione dei visitatori. E anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Giovanni Mencucci e Pina Andreoli che oggi festeggiano 66 anni di matrimonio e nozze di gelsomino per questa coppia residente a Tombaccio di Fano. Auguri anche da parte di tutti noi di Fano TV. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa Occhio ai giornali. Buona serata a tutti.